Alle mie spalle possiamo notare una bellissima pianta di Hortensia Annabel ed è una delle cultivar di Idrangea Arborations forse meglio riuscite. È una pianta con un portamento che arriva ad un'altezza di circa 120 centimetri e ad un portamento sciolto, molto morbida. I tralci sono abbastanza esili ma malgrado la sezione molto piccola riescono a portare dei fiori molto grandi. La fioritura è influenzata dalla potatura. Se noi potiamo molto questa pianta di Idrangea allora produrrà fiori molto grandi perché saranno minori di quantità ma molto grandi di dimensione. Possiamo arrivare a dimensioni di 25 centimetri come infiorescenza. Se invece la pianta viene portata un po' di meno le infiorescenze normalmente arrivano a un diametro attorno ai 20 centimetri. L'infiorescenza prima di fiorire è di colore verde poi durante la fioritura si colora sempre di più di bianco finché arriviamo a un bianco avorio molto gradevole. La foglia di questa Idrangea è molto tonda, sottile e lievemente coperta da uno strato tomentoso, morbido, una piccola lanugine che la ricopre. E il fogliame non è verde molto scuro ed è un verde un po' più pallido. Si può riprodurre per talea molto semplicemente nel periodo estivo come tutte le Idrangee. Ama posizioni di mezzombra e l'infiorescenza è maestosa. A fine fioritura i fiori virano verso un color verde certosino prendono un bellissimo color verde che lo terranno fino all'autunno.